Nei Vangeli leggiamo diversi brani di un uso che Gesù aveva, di andare a trovare, onorare amici e conoscenti partecipando a cene, andando a trovarli a casa, insomma, in poche parole. E in diversi brani dei Vangeli vediamo il Signore Gesù seduto a casa di qualcuno. Bene, non è più così, ma vi è una forma di abitazione che è ancora possibile, una forma di abitazione di Cristo che è ancora possibile, anzi è auspicabile. Nella lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo, nel capitolo 3, versetto 17, afferma Faccia sì, il soggetto è Dio, che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. È un'abitazione di natura non fisica, ma spirituale. Consideriamo il luogo. Faccia sì che per mezzo della fede abiti nei vostri cuori. Cosa si intende per cuore in questo caso? Si intende quella che noi chiamiamo anima, la nostra componente spirituale. Come dire, faccia sì che Cristo abiti nell'intimo del vostro essere, nella parte vostra forse più nobile, nella parte vostra più intima, appunto. è un modo per dire che la comunione, la relazione che noi, che ogni uomo deve avere con Cristo è di natura vitale, intima, totale, radicale. Dio faccia sì che Cristo abiti nei vostri cuori. Se il luogo è il cuore, è evidente, l'ospite è Cristo. Non diamo per scontato questa affermazione. Cristo abiti nei vostri cuori. Alle volte si ha la presunzione di essere cristiani tenendo Gesù alla porta del cuore. Si ha, insomma, la presunzione di essere cristiani invitando Cristo giusto per il pranzo domenicale. abiti, risieda nei vostri cuori. La comunione, la relazione, che dir si voglia, di Cristo con il credente, dicevamo, è radicale, ma è continua, è totale. È una trasformazione, un cambiamento. Non è una vita religiosa. Ed infine, oltre il luogo, beh, è importante considerare il mezzo, per mezzo della fede. Se dobbiamo ospitare qualcuno a casa, dobbiamo aprire la porta, farlo accomodare, come si apre la porta del cuore, espressione molto infantile, ma è importante, per mezzo della fede. Credi tu che Cristo è il figlio di Dio? Credi tu che Egli è morto ed è risorto per te? Credi tu che al di là del tuo stato Egli può trasformarti, darti la vita eterna e stabilire con te una comunione che va oltre il tempo e lo spazio? Lo credi? Se lo credi, questa è la fede. Per mezzo ad essa, apri la porta del tuo cuore.